mamma mia che paura scusate il presidente putin dice chi osa disturbarmi presidente ci scusi l'orario io non volevo neanche collegarmi da svidania qui in rai 3 stati generali soviet generali non so come si dice il presidente putin dice continuiamo dopo abbiamo interrotto stava riposando mi dispiace questo è cattivo il presidente putin dice no stavo facendo il nuovo calendario sappiamo che ogni anno nasce uno e ama molto farsi ritrarre con pose plastiche e virili comunque scusi se glielo dico si vede benissimo che non sono addominali veri quella è una maglietta ce l'abbiamo anche qui in italia il presidente putin dice ah tu sei una buona osservatrice mi sembra che pure sotto comunque non è finito vabbè senta scusi se io lo sapevo chiedevo delle domande a maurizio mannoni 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 testa di minsk il presidente putin dice apprezzo molto l'operato di questo vostro esimio giornalista che è successo scusi non ho bisogno di traduzione io faccio da solo mamma mia che violenza però aspetta si parla italiano io presidente di russia vladimir putin saluto a tutti i compagni di di terra di aria e di tondra e vi ricorda che stamano può essere ferro e può essere colore sono già sentita senta presidente scusi mi viene così da chiederle forse può aiutarci a capire la situazione internazionale ecco come vede lei quest'europa fragile divisa su tutto economia immigrazione ambiente da c'è sta un ministro francese un ministro tedesco e un ministro spagnolo che si trova per discute e poi arriva de maio e non è che barzelletta finisce così voi sì però perché scusi e sembra che di queste debolezze tragga beneficio soprattutto la russia diciamoci la verità voi ormai controllate tutti gli equilibri mondiali ma niente ma niente esagero ma niente si lo dico nei giornali come no scusatia si prego dai ah c'è sta elezione a guatemala vabbè facciamo vincere sinistra toh mi voglio divertir a far favore dopo la beffana fammi uno squillo che facciamo cadere governo ma che si fa così scusi ma che modo è ma non ho capito ma l'interfe vabbè è che solo cia si può divertirsi si si fa così si fa così chiamano divertimento scusi a proposito di elezioni ma e di stati uniti trump l'avete aiutato sì o no a diventare presidente mo me lo può dire siamo in confidenza niente no nego questa è l'azione in modo più categorico noi abbiamo solo impedito che diventa presidente Hillary Clinton beh vedi scusi la stessa cioè ma che fa lo spiritoso come no dai Putin da 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 però adesso sempre per divertirsi lo facciamo cadere per impeachment perché trump c'è solo una cosa buona che cosa moglie melania si è stufata destacco uno con i capelli colorati con un'iposca preferisce uno di mosca lei sembra un uomo di spirito presidente eppure pare che non abbia vita facile chi la pensa diversamente da lei nel suo paese no niente come niente nel mio paese tu libero di manifestare e contestare come ti pare piace io però libero di sbatterti in siberia sì guarda Dandenova sì e la matriosca dei cretini è sempre incinta nel senso quando tu apri matriosca trovi un cretino e dentro ci sta cretino e dentro ci sta cretino sì cretino 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 ecco perché dove c'è gula che c'è casa io me la ricordavo diversa sta cosa della casa veramente comunque e scusatzi un'altra volta e beh uomo di stato la ridaglie ma come ah ma cron dice male di me boom gli bombardiamo la mail con tutte quelle offerte enlarge your penis ma no così da domattina tutti lo chiamano micron ma la prego ma non si può rifaccio ma non può funzionare così scusi scusi a questo punto Putin le devo chiedere cosa c'è di vero sulla presunta trattativa per finanziare il partito di Salvini tramite un accordo per la fornitura di gas qui ne parlano tutti i giornali e allora ma come diciamo noi a Vladivostok eh il diavolo del gas fa pentole ma non dà coppecchi ma comunque mo non mi ricordo Salvini, Savoini eh 60 milioni più 60 milioni meno eh beh la vita è così rubli vanno rubli vengono beh insomma e comunque prima o poi li troviamo perché casa nasconde ma non rubla sì non rubla però tornando all'Europa lei pensa che questo appellarsi all'uomo forte che va tanto di moda risolve tutto che alla fine possa avere fortuna ma ma che ti ho da dire ma come che ti ho da dire solo Putin è uomo forte eh forse anche Marine Le Pen e Giorgia Meloni è uomo forte ma io come settimana enigmazia vanto innumerevoli tentativi di imitazione sì certo e Orban eh quel figlio di un Erdogan xenofobi di Olanda di Austria Vox in Spagna le ghieste in Italia eh insomma come diciamo noi a Minsk sono tutti buoni a fare uomo forte con il voto dell'altro però poi quando vanno al governo eh sì noi dimmi così quando vanno al governo poi si smoscano tutti come squacco e razia da retta a un Cremlino sa che lo penso un po' anch'io mai pensavo di trovarmi d'accordo con Putin sì però adesso non mi è diventato troppo appiccicoso no no scusi a proposito da controllare il frigo che domani ti scadono spinacine eh ma come fa a saperlo scusi devi anche ricomprare il detersivo per piatti che è quasi finito è vero è finito ma scusi ma 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 e ora scusate ma io tengo che fare cosa più importante deve fare un summit mondiale no devo fare maggio calendario 2020 scatta maggio forza e coraggio sta venuto fico bene passiamo a Giugno Giugno contro Belva Feroce Giugno